Bene, rieccoci di nuovo a una importantissima vigilia. Siamo già qui a Torino, cercando di preparare al meglio questa partita, naturalmente molto importante. È una partita dovevamo continuare nel nostro percorso di crescita, quindi la prima cosa chiederò alla squadra è continuare nella prestazione. La seconda cosa è mantenere il focus e soprattutto il nostro grande obiettivo, che è quello di continuare a lavorare sulla salvezza ed avere una mentalità da salvezza. Quindi questa sarà una partita molto difficile, affrontiamo una squadra forte che ha appena passato il turno di Euro Cup. Questo ci deve dare ancora più grandi motivazioni e soprattutto il desiderio e la voglia di continuare a lavorare in un momento positivo. Quindi grande fame di fronte a un avversario molto forte.